So bene che molte delle cose delle quali discutiamo anche stasera purtroppo non le vedrò da sindaco, ma io voglio fare il massimo, voglio lasciare un'eredità importante a questa città. Poi magari le inaugureranno altri, non fa niente, ma voglio interpretare al massimo questo momento, questo momento nel quale noi possiamo creare una rinascita. Sette anni da sindaco è un numero al quale sono affezionato, ci fa capire che manca davvero poco, solo tre anni alla fine del mandato. Era un sindaco entusiasta quello di giovedì sera sul palco di Piazza del Popolo, Matteo Ricci non si è fatto trovare impreparato per l'appuntamento Pesaro pronta a rinascere, in cui il primo cittadino ha fatto il bilancio di fronte alla cittadinanza dei suoi sette anni di mandato. Ce ne vorrebbero molti di più per realizzare tutte le opere, ha detto Ricci sul palco, quasi emozionato nell'ammettere il suo desiderio di voler lasciare un'eredità importante a questa città. Cultura, sport, mobilità sostenibile e tante opere pubbliche che da 2016 l'amministrazione comunale è riuscita a realizzare grazie allo sblocco del patto di stabilità, ha ricordato il sindaco, passando in rassegno i vari progetti, anche quelli di opere ancora in corso, come il nuovo Palace di Viale dei Partigiani, che dovrebbe essere inaugurato il 22 agosto per l'ultimo concerto del ROF. Il sindaco ha parlato di una città pronta a rinascere dopo 15 difficilissimi e lunghi mesi di pandemia, mesi di resistenza, ha detto Ricci, rispetto ai quali il Comune ha cercato di reinventarsi, investendo più di 5 milioni di euro nell'emergenza Covid. È stato fatto tanto e i pesaresi ce l'hanno riconosciuto due anni fa, dandoci ancora fiducia con un largo consenso. Però adesso, dopo questo anno drammatico, siamo in una fase straordinaria, nella quale davvero possiamo far volare ulteriormente Pesaro. Ci sono tante risorse, tante risorse che arrivano dall'Europa, tante risorse che arriveranno dal Governo nazionale, noi ci stiamo attrestando per coglierle e tante già ne abbiamo prese, perché già risorse per la stazione, che sono state definite per la nuova stazione, bandi che abbiamo già preparato, dal San Benedetto ad altri contenitori culturali del centro, delle frazioni, delle colline. E quindi siamo davvero in una fase straordinaria, nella quale abbiamo bisogno di progettare, di darci da fare per portare più opportunità possibili a Pesaro. C'è la preoccupazione della velocità, perché la mia preoccupazione è quella di non riuscire a mettere a terra le tante risorse che abbiamo già portato e che potrebbero arrivare. Troppa burocrazia, abbiamo bisogno di semplificare, velocizzare, perché altrimenti il Paese rischia di perdere una grande opportunità. Capitolo ciclabili, annunciato delle novità questa sera? Sì, abbiamo già finanziato molti ciclabili, anche quest'anno, la ciclabile che arriverà a Vismara, la Regione ha finanziato la ciclabile sul Foglia che arriverà a Montelabate, abbiamo finanziato quella su Via Fratti, quella che andrà a Villa Fastigi verso il Lago Penserini nel Lungofoglia e poi tante altre che finanzieremo nei prossimi anni. E poi lo sguardo rivolto al futuro, che cosa farà il Sindaco alla fine del suo mandato? Adesso intanto mi vedo pancia a terra su Pesaro perché, come dicevo poco fa, il mio dovere in questo momento storico è dare più opportunità possibili di rinascita a Pesaro, alla nostra bella provincia. Poi vedremo se i pesaresi apprezzeranno, questo sicuramente sarà aiuto in più, una spinta in più per magari vedere se l'esperienza da amministratore locale può diventare un contributo maggiore anche per il mio Paese. Però lo vedremo, io la politica nazionale la sto già facendo da anni come Sindaco e quindi penso che continuerò a impegnarmi in questa direzione.